Un programma realizzato in collaborazione con Mares, TCM, gli orologi dei temerari, Miss Bikini Luxe, prodotto dall'Underwater Film. Blu, la nuova serie. Vi porterà alla scoperta di luoghi meravigliosi, spiagge bianchissime, resort da sogno, isole incantevoli e fondali marini tra i più belli al mondo. Gianluca Genoni e due nuovi volti femminili vi condurranno in mete esotiche inesplorate e acque cristalline. Nuoteranno insieme a balene, delfini, tartarughe giganti e molte altre specie marine. Vi faranno trattenere il respiro, immergendosi senza bombole, ma con l'uso dei soli polmoni. Blu, regia di Fabio Bove. Prossimamente, solo su Yacht in Sail. Non mancate!